Manca poco ormai alle nozze tra Chiara Ferragni, la più nota influencer al mondo, e il rapper Fedez. È passato poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all'Arena di Verona. Le nozze sono tra le più attese dell'anno in Italia. La coppia regina delle cronache rosa ha da poco festeggiato la nascita del primogenito Leone. E l'inaugurazione della nuova casa a Milano, nel quartiere moderno di City Life. Tra gli invitati al matrimonio sono attese tante celebrità, nazionali e internazionali. Tra i più acclamatici saranno l'ereditiera Paris Hilton, il rapper italiano Jerry Aix, Manuel Agnelli, la modella Bianca Balti. Ma c'è anche un assente inaspettato, che ha lasciato a Tony T i fan del rapper. Al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non ci sarà Fabio Rovazzi, l'artista di successo dei tormentoni estivi legato da un'amicizia con la coppia di futuri sposi. Rovazzi non è tra gli invitati alle nozze a noto, in Sicilia, perché il legame di amicizia, ma soprattutto professionale che aveva con Fedez si è spezzato. A maggio infatti, dopo la nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez. Il settimanale Chi? Aveva annunciato la rottura del rapporto tra i due artisti musicali.